Il libro Odio parla essenzialmente di casi giudiziari che io ho seguito, di persone che ho incontrato durante la mia attività, che a questo punto è trentennale. Parla anche un po' di me, perché per capire bene le ferite degli altri, uno degli assiomi a cui credo moltissimo è anche sondare le proprie differite. Parla di casi molto al limite, di serial killer italiane che ho conosciuto, quindi si pone in quella lunga linea di analisi di persone che hanno commesso atti atroci, assurdi. Parla dell'odio. Giunti Editore e Psicologia.io mi hanno convinto a fare questa operazione editoriale che sta andando molto bene, anche perché ha una profezione di eccezione di uno dei più grandi studiosi del comportamento violento che si chiama Philip Zimbardo, autore di un famoso esperimento volto a valutare empiricamente da buon americano le intuizioni di una grande filosofa e di un grande libro che si chiamava il libro La banalità del male e lei si chiamava Anne Arendt. Come nasce l'odio? L'odio non è solamente appannaggio di persone cosiddette malvaci. L'odio lo puoi trovare da tutte le parti. Lo puoi trovare in un'aula di scuola, in un'aula universitaria, in un paese che non ti accoglie. Ho vissuto a lungo, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in altri paesi del mondo. E la sensazione di essere un corpo estraneo, spesso una sensazione dalla quale può scaturire, possono scaturire anche atteggiamenti di diffidenza, di sospetto, di paranoia, di ostinità, tutti elementi che possono poi andare a confluire in quello che noi chiamiamo odio. Cosa consiste l'odio? Beh, diciamo che in estrema sintesi è nell'incapacità di provare emozioni. E sta anche nella incapacità di poter pensare che quel qualcosa che noi potevamo avere, qualcuno ce l'ha tolto. Quel qualcosa che potevamo avere è un sentimento di perdita, la nostra gioventù, la nostra giovinezza, la nostra felicità. Ci sono casi giudiziari in cui persone diventano omicidi da un momento all'altro, uccidendo persone a loro carissime. E i motivi poi non si capiscono, li ho uccisi perché erano felici. Faccio un esempio di un recente caso, purtroppo, di Cronadine. Allora è il dire, non ho avuto quello che avete avuto voi, ma adesso vengo a riprendermelo. Nella maniera ovviamente più distruttiva possibile. Questa è una delle componenti. L'odio sta anche nella incapacità di essere accettati in un mondo più complesso, nell'accettare la complessità. E io da che parte sto allora? Se sto da una parte è perché allora getto tutto il brutto, lo schifoso, l'orrendo, il violento dall'altra parte. Questa è un po' la cifra dei nostri tempi, che alimenta quel motore che è il sospetto, la paranoia, l'ascissione, in termini più strettamente psicologici. Quindi questo libro di Brodio racconta anche di me. Racconta anche di me. Si apre mentre percorro quel tratto di strada, ormai i fendolari lo sanno benissimo, che è l'autopaglio. Quando mi muovo da Poggiubonzi, il paese nel quale vivo, e vado tra le varie parti del mondo, e soprattutto a Firenze a prendere treni o aerei che ti portano un po' dappertutto. E parte anche da questo, quindi parte anche dalla mia esperienza quotidiana, dalle mie anche, da tutte le volte in cui ho trovato l'odio sono riuscito a, fortunatamente, a schivarlo. Come si schiva l'odio? Avessi delle ricette, sarebbero delle ricette fenomenali da vendere ai potenti della Terra, perché l'odio è anche l'odio etnico, si può odiare una persona, un ideale, una persona, un colore politico, un'ideologia. Sulla base dell'odio sono state costruite i più grandi massacri anche della storia. Dico anche che però rispetto alla, lo troverete scritto nel libro, alcune suggestioni molto personali, e anche tratte dalla pratica mia clinica, perché io di mestiere faccio lo psicoterapeuta, oltre che il criminologo. E mi ostino sempre a pensare che accanto all'odio, al Thanatos, come lo definiva Freud, c'è l'eros. L'eros non ha a che fare con la sessualità, ha a che fare con la voglia di vivere. E allora è possibile che non possiamo trovare nelle nostre vite, anche rispetto a un mondo che è crollato, o alla nostra vita, che è un po' precipitata, qualcosa che ancora ci possa fare piacere. Ecco, se dovessi in estrema sintesi condensare una risposta, è nella nostra capacità di trovare anche ciò che si ama, come diceva Saffo, una famosa poetessa greca. Diceva, più che un esercito di cavalli, una flotta di navi, io dico che su una nera terra la cosa più bella è ciò che si ama. Ecco, l'antitesi all'odio è la rivitalizzazione delle nostre parti vitali, ben consapevoli di vivere in un mondo complesso, dove torte ragioni non stanno così distinte le une dalle altre.